pensavo di averle viste tutte ragazzi ma stasera stasera e dico stasera e dico ragazzi stasera e dico stasera doppietta ragazzi di brunetto peres brunetto peres ragazzi la roma che sta vincendo 5 a 1 all'86 ormai al video posso già fare tanto sti cazzi può finire 6 a 1 5 a 2 ma tanto un gol in più un gol in meno 3 gol in più 2 gol in c'è ragazzi ormai 5 a 1 penso che il video potrò già farlo dal 4 a 1 la roma che va in gol al 10 minuto del primo tempo con Kalinic poi la pareggia la spalla al 24esimo con Cerri 14 minuti dopo la pareggia ragazzi è stata espulsa adesso Bonifazi la pareggia con un bel gol lì alla Petagna la pareggia Cerri poi la raddoppia peres con un bel gol e poi ragazzi nel secondo tempo c'è stata veramente una goleata da Roma con Kolorov al 47esimo che segna un bel tiro da fuori aria fa un bel tiro da fuori aria Kolorov poi segna brunetto peres il primo gol al 52esimo e poi ragazzi arriva l'altro gol di brunetto peres su assist de Zappagosta una bella Roma ragazzi mi è piaciuto cioè diciamo chi mi è piaciuto perché c'è poco da dire bruno peres sta giocando bene in queste ultime tre partite ha fatto delle prestazioni buonissime a parte con l'inter ha fatto delle belle prestazioni mi sta piacendo come sta giocando complimenti a lui oggi non smadoniamo contro la spalla che dire ragazzi che cazzo devo dico la spalla che cazzo devo dico ha fatto doppietta brunetto peres esultiamo cioè ragazzi oggi c'ho poco da poco da so contento per la vittoria per i tre punti perché il Milan che è andato a vincere contro il Sassuolo e ci ha matematicamente portato in Europa League fermando il Sassuolo il Napoli che perde contro il Parma contro il prosciutto di Parma contro il prosciutto di Parma perde 2-1 e non ho visto la partita quindi non so se ha giocato bene o male non lo so ho visto solamente i titoli dei napoletani e la Roma che fa 5 gol momentaneamente alla spalla andando sopra più 2 dal Milan a più 2 belli dei chicchi più 2 dal Milan e noi ci stiamo ormai il campionato da Roma è finito ragazzi è finito il campionato da Roma stiamo a lottare per andare direttamente in Europa League oppure fare i preliminari per il resto ragazzi Brunetto peres doppietta di Brunetto peres ragazzi cioè gol dei Kalinic doppietta di Brunetto peres ci mancava solo che va tripletta Brunetto peres ma se lo merita se lo merita perché in queste ultime partite stava giocando pure abbastanza bene e devo dire comunque che se li merita questi due gol però doppietta in una serata e niente ci manca solo che va doppietta Galinic è veramente ragazzi è successo di tutto e di tutto e di più niente ormai la spalla come abbiamo già detto come ben sapete è già in serie B quindi sta giocando tanto per perché si vede raga poi il livello tecnico tra Roma e spalla si vede è nettamente superiore io veramente stento a crederci come abbia fatto il Milan a pareggiare quella partita contro a spalla veramente raga sento a crederci purtroppo c'è non lo so meglio per noi è meglio per noi però sento a crederci la Roma oggi che fa 5 gol alla spalla tranquilla non ci sono stati nel primo tempo ha giocato la spalla ragazzi ha fatto qualcosina ma al secondo tempo solo Roma adesso sta riattaccando concluderemo quest'azione con questo gol de no niente non c'è stato niente recupero da parte del centrocampista della spalla quindi ormai raga 89esimo è finita è finita penso che manco recupero da niente raga e basta che ve devo dire amo vinto doppietta del brunetto mamma mia omg doppietta del brunetto peres buonanotte a tutti raga grazie a tutti